Questo flusso di persone, ma la risposta degli stati, soprattutto degli stati europei, ma anche dell'Italia, è quella di cominciare a una politica di stretta sui flussi. Quindi nel 2016 inizia quella che abbiamo chiamato una criminalizzazione di chi fa soccorso in mare e iniziano anche gli arresti, i primi fermi, iniziano a circolare le storie dei presunti scafisti, spesso dei ragazzini, che vengono fermati appunto per, vengono arrestati continuamente. Quindi la parola scelta per il 2016 è Capitani, la racconta Richard Brody di Archie Pocorosso.